Si terrà domani alle ore 11 la presentazione ufficiale di Faville Festival. La conferenza stampa è stata convocata presso il comune di Ponte Cagnano Faiano. Faville, Festival delle Arti Digitali, è un progetto che coinvolge artisti e creativi allo scopo di diffondere arte e performance digitali come nuove correnti creative dell'arte urbana contemporanea. Il progetto prevede la realizzazione di installazioni digitali realizzate da alcuni artisti di rilevo nazionale nel centro cittadino. Combinate ad alcuni eventi e spettacoli live che animeranno la tre giorni di festival. Le opere andranno a costituire un itinerario d'accesso gratuito coinvolgendo l'intero centro urbano.